Buongiorno a tutti, in questo video voglio parlarvi della correlazione tra il legno e gli acari. Dato che alcuni di voi mi hanno chiesto se è vero che le gabbie di legno portano gli acari, ho deciso di fare questo video per spiegare bene questa situazione. Ecco, vedete alle mie spalle, sulla vostra destra, le gabbie che vedete sono tutte in legno, gabbie che ho da oramai 4 anni e quindi che dovrebbero avere questo problema degli acari. Ecco, iniziamo immediatamente a sfruttare questo mito che ha un solo fondo di verità che vi spiegherò più avanti. Quindi partiamo col vedere e con il capire gli acari come si comportano quando entrano nell'allevamento. Innanzitutto sono animali fotosensibili, questo cosa significa? Significa che si nascondono dalla luce, quindi ecco in questo momento nelle mie stanze se ci fossero acari sarebbero tutti nascosti, questi nascondigli gli acari li riescono a trovare sia nelle gabbie di alluminio sia nelle gabbie di legno e sia in qualsiasi altro posto, anche perché sono parassiti che sono grandi un millimetro da adulti, quindi anche meno quando sono nello stato diciamo così larvale che stanno facendo la metamorfosi, quindi capirete che si riescono a inserire veramente i spazi molto molto piccoli, quindi nelle gabbie di metallo generalmente preferiscono di giorno stare sotto la carta, nei cassetti oppure quando sono tanti si rifugiano nelle molle, nei postatoi bucati, nello spazio tra il beverino e la griglia della gabbia, quindi se c'è un'infestazione insomma ve ne accorgerete perché saranno visibili poi in questi posti anche di giorno, ma difficilmente li vedrete di giorno, per accertarsi veramente se ci sono acari nell'allevamento basterà prendere una lampadina di notte, dopo circa due ore che nella stanza è buio, andare con una lampadina, guardare nelle gabbie, se ci sono li vedrete camminare sui postatoi, quindi il metodo 100% se avete dubbi per scoprirlo è questo, perché sono parassiti che si nutrono esclusivamente di notte, raramente gli acari attaccano gli uccelli di giorno, ma in un allevamento come il mio dove ci sono tanti uccelli sicuramente preferiscono la notte, quindi questo è il momento per scoprire se ci sono, poi altri sintomi per scoprire se ci sono sono quelli che riguardano proprio noi, perché se ci sono acari mettiamo le mani nelle gabbie, prima o poi ci saliranno addosso, senteremo dei pruriti in più posti del corpo e tenderemo a grattarci in modo, non come facciamo diciamo così quando ci mordono la zanzara, ma avremo dei piccoli pruriti sparsi per il corpo, non sempre ci saranno gli acari, saranno anche delle sensazioni, perché gli acari sono veramente veramente piccole, quindi anche se voi per esempio li avete su un braccio che camminano e guardate non li vedrete, dovrete zoomare tra virgolette con gli occhi per poterli vedere, quindi ecco questi pruriti si spargeranno per farvi capire come potreste grattarvi, ecco questi sono i sintomi che potete avere, cioè avere su tutto il corpo continuamente queste sensazioni di prurito, quindi nessuno è immune dagli acari, questa è un'altra cosa che voglio specificare, perché basta lasciare una gabbia fuori, comprare un uccellino in un uccellerio da un altro allevatore, insomma i modi possono entrare da sole se siete in un piano terra, ma anche in un piano più alto, perché possono venire dall'esterno e basta una sola femmina con le uova per infestarvi tutto l'allevamento, quindi adesso qual è la correlazione tra gli acari e il legno? Molto semplice, nel legno gli acari riescono a trovare più rifugi, dato che il legno generalmente viene inchiodato o incollato, tra un pannello e l'altro rimane comunque un piccolissimo spazio dove gli acari possono inchufolarsi, il legno poi è un materiale che mantiene più caldo in estate, quindi gli acari preferiscono il legno ai metalli, quindi se avete gabbia di legno certamente troveranno più nascondigli, ma non è la gabbia di legno che produce gli acari, quindi toglietevi delle testa questa cosa, gli acari sono animali che si nutrono di sangue, i parassiti che si nutrono di sangue, non c'entrano nulla con la sporcizia, ma sono praticamente presenti solo per bere del sangue degli uccelli, quindi se naturalmente l'ambiente è sporco, loro troveranno rifugio anche fra gli escrementi, quindi fate molta attenzione a pulire bene perché possono nascondersi fra gli escrementi, se ci sono è inutile pulire continuamente senza trattare gli eccelli nell'ambiente, io ho visto acari navigare nella candeggina, quindi sono parassiti resistentissimi che non muoiono facilmente e ci sono i metodi per ucciderli, ma ci vuole una volta che l'infestazione è in atto molta molta pazienza e come vi ho fatto vedere in più video i metodi per combatterli sono diversi, poi dipende dal grado di infestazione, nessuno può dire io non ho acari, io non ho avuto mai acari solo perché tiene pulito l'ambiente, perché ripeto non sono animali che arrivano con lo sporco, ma sono animali che arrivano per nutrirsi di sangue, quindi e concludo, non è il legno che porta gli acari, ma gli acari quando arrivano trovano molti più rifugi nel legno che nelle gabbie di metallo, questa è la verità, quindi se avete gabbie di legno procederete come le ho io, procederete a fare delle disinfestazioni più accurate e almeno due volte, una volta ogni due mesi, cercando di spruzzare i prodotti proprio nelle fessure che ci sono nel legno. Io vi ringrazio tutti, ci tenevo a specificare questa cosa e ci tengo anche a specificare che tantissimi elevatori sanno questa cosa, io non mi rivolgo come sempre vi dico agli esperti, ma mi rivolgo a chi non sa niente o poco o sa cose solo per sentito dire, un elevatore esperto che utilizza gabbia di legno naturalmente saprà che non è il legno a portare gli acari, quindi ecco, sono tanti quelli che mi seguono e sono neofiti, giovani, che sono confusi e che quindi sentono dire tante cose diverse e magari poi non acquistano una gabbia di legno per paura che il legno gli procuri gli acari. Le gabbie di legno non hanno paragoni, quando è possibile averle, come ripeto, le vedete alle mie spalle, sono fantastiche, sono molto più belle delle gabbie di metallo e gli uccelli che vengono messi all'interno di queste gabbie sono molto più gradevoli da vedere e si sentono anche più tranquilli perché, come vedete, sono coperte su tutti i lati e hanno solo il frontale libero. Io vi ringrazio tutti, vi auguro una buona giornata e a presto con un nuovo video.